siamo in costa ricca nella riserva biologica la selva e abbiamo appena trovato un esemplare di falena una falena un po particolare è una sfinge imita benissimo una foglia secca infatti immagino che adesso non la stiate ancora individuando le sfingi sono delle farfalle notturne e sono chiamate anche farfalle colibri perché volano proprio come gli uccelli colibri e suggono il nettare dei fiori rimanendo sospesi in volo perché possiedono una spiritromba molto lunga e quindi riescono a nutrirsi senza doversi appoggiare al fiore e quindi senza rischiare che un predatore riesca ad acchiapparle questo tipo di mimetismo è chiamato mimetismo criptico quando un animale quindi si confonde con l'ambiente in questo caso visto che questa falena imita fedelmente una foglia secca possiamo tranquillamente dire che si tratta di una specie criptica 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 che si tratta di una specie criptica